Parla di influenza, insomma, spesso si adotta il metodo fai da te. In realtà lo possiamo fare e poi il consumo, l'abuso, talvolta l'abuso di antibiotici. È vero, assolutamente l'antibiotico in una prima fase non serve mai. Si può prevenire in qualche modo l'influenza, comportamenti sani che ci possono... Stamattina ci preparerà, letteralmente parlando, una colazione al volo. Eh, al volo, cioè che hai pochissimo tempo e volevo sapere con che cosa ci prepara questa colazione. Allora, prima di iniziare, aspetta, partono i 60 secondi, parte il countdown, pronti? Ok. Dai, 60 secondi. Bene, allora, le meravigliate, una pesca sciroppata. Guardate, partendo dal fuoco. Fabio, bravo! Insomma, ci stava chiedendo Fabio se fosse una colazione leggera, mi sembra. Sì, 12 milioni di calorie, leggerissimo. No, leggerissima. Sei stato bravissimo Fabio, grazie. Il colonnello, il trento colonnello Girono Sansossi, nuovamente ci racconta come andrà il tempo. Colonnello. Molti episodi di interruzione del contatto. Certo. Che però sono molto brevi. Ecco, soffermiamoci un momento su questo, professore. Abbiamo sentito che in alcune tipologie...